e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti e condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete devastatelo di mi piace e guardatevi video fatti specialmente quello sul calcio mercato della juventus di cui questo qui è filiazione perché quest'oggi farò il calcio mercato della juventus molto razionale per come l'avrei costruita io alla luce dell'ultima stagione e le scelte che avrei fatto e rispondo anche ad alcuni commenti che ho ricevuto lì sotto perché perché diverse persone mi hanno scritto è ma Pogba è forte ma Di Maria è forte va bene sono d'accordo ma Pogba e Di Maria sono ma chi ha detto il contrario ma sono due piani diversi vi faccio un esempio Cristiano Ronaldo era ed è un giocatore forte fortissimo ma a livello progettuale che risultati ha portato a livello di progettualità ok io non credo che Marotta che giustamente a mio avviso all'epoca si era opposto all'acquisto di Ronaldo ritenesse Cristiano Ronaldo un giocatore scarso semplicemente a livello progettuale non era quello che serviva in quel momento stesso dicasi per il calcio mercato della juve fatto nel modo che sto vedendo se si parla dei Pogba se si parla dei Di Maria se si parla dei Coulibaly è un discorso di progettualità cioè non stiamo sempre sul dire è forte è scarso cioè alziamo un attimo un po' a livello non è che ci vuole una laurea sono due discorsi diversi sono due piani diversi capito poi gente che mi cita ad anni nei commenti voi siete veramente tarlati veramente a Milano c'è che cazzo c'entra ad anni a Milano c'è una trattoria arlati buonissima ecco trattoria tarlati bisognerebbe aprire e veramente offrire la cena a questi qua che parlo di veramente steste diarchie forte scarso ad anni allegri ma che livello basso ma che bassurie ma siamo veramente fermi qui vi hanno abituato così gli youtubisti di stampo juventus veramente siamo a questo livello qua minchia poi poi c'è iniziate ad alterarvi capito quando vi si fanno notare le cose e si sparano veramente discorsi senza senso con citando gente che fa la riserva o gioca in under 23 ma scusate scesni quanti anni ha danilo quanti anni ha quadrado quanti anni ha di maria quanti anni ha pogba ne fa 30 a marzo culibali si arriva quanti anni ha è una rosa giovane vi sembra una rosa fate il confronto col milan anche ma il milan c'ha girù e i brimovi c'è milan è una squadra giovanissima tonali è un vecchio leao è un vecchio tomori è vecchio calulu è vecchio teo ornandez è vecchio sei le me che era vecchio a squadra che ha vinto lo scudetto e che confronti sono ma che confronti sono sballati totalmente sballati e tarlati bene poi a parte questo e vi ripeto andate pure a vedervi quel video lì vengo al cattomercato questa è semplicemente quello che avrei fatto io molto razionalmente cioè a livello gestionale a livello progettuale a livello di scelte di cespiti di costruzione avrei fatto esattamente questo se se fossi stato uno stakeholder un decisore di casa juventus semplicemente avrei cambiato allenatore mi sarei salutato con allegri con buon uscita rispetto decidete voi avrei chiamato gasperini e gli avrei costruito una squadra che come vedrete proprio mi fermo a livello economico poi ovviamente approfondiremo a livello tecnico ma a livello economico fare questo tipo di scelte questo tipo di squadra costa circa 30 milioni il saldo sarà di meno 30 milioni quindi avere una juventus come quella che vedrete costerebbe meno del cartellino di zaniolo quindi per farvi ragionare su questo ok un 3421 per gasperini con diversi giovani forti allenatore che ha allenato la primavera della juventus io mi sarei affidato a lui per un progetto biennale triennale di rafforzamento e vi vado a dire anche le scelte che avrei compiuto a livello di rosa a livello di cessioni portieri scesni lo avrei ceduto perché a me non piace molto ok farei una scelta precisa in porta in premier chi lo vuole 13 15 milioni ma lo cederei non mi piace molto perine pinsoglio li confermo difesa del igt lo confermo bonucci lo confermo rugani lo confermo chiellini via zero demiral perché noi ovviamente dobbiamo ritornare ad inizio calciomercato no demiral si c'è il discorso dell'atalanta ma avrei impostato la trattativa in modo diverso come poi vedrete quindi demiral trattativa particolare gatti lo darei in prestito per fare un anno di anche lì gatti e giovane gatti c'ha 24 anni e cioè c'ha l'età di milenkovich gente di 24 anni in inghilterra per esempio non è non è neanche più considerata giovane ma a parte questo lo darei in prestito per fargli fare un anno in serie a diciamo ad ambientare bene dragusin lo inserisco in una trattativa del fabbro lo cedo un milione un milione e mezzo de winter va bene dato in prestito terzini sinistri alexandro lo cedo 11 12 13 milioni ma lo cedo pellegrini lo tengo perché giustamente avrebbe un allenatore avrebbe delle opportunità per giocare mentre si mostra con le scelte che faremo terzini destri danilo inserisco in una trattativa quadrato lo tengo de ciglio via zero ecco diciamo che nel mio universo parallelo nel mio pindarism engine di fare calcio juve tu arrivavi ad aprile marzo che c'erano alcune spie tipo de ciglio che non veniva rinnovato allora lì io mi immagino il video di un simone absin dell'absinmate che faceva il video tutto fomentato dicendo ecco col col sua diciamo analisi dietrologica fine diceva ecco avete visto vuol dire che allegri non resta se non gli hanno rinnovato de ciglio e avrebbe avuto ragione quindi de ciglio non l'avrei rinnovato locatelli lo darei in prestito attenzione lui è un altro che con gasperini assieme a tutti gli altri potrebbe grandemente usufruire di una valorizzazione importante di una rivalorizzazione ma personalmente non mi piace quindi lo darei via in prestito ok decidete voi dove si vuoi serie all'estero ma lo darei in prestito non lo cedo per carità di dio che è difficile ma in prestito vi piace so che a voi piace lo volete tenere tenetelo ok nella juve di gasperini visto che può giocare anche volendo sia centrocampo che sulla trequa ma me non piace quindi lo do in prestito zaccaria lo tengo artur lo cedo in una trattativa mckenny lo tengo rabbio lo tengo ram sei via zero mandragora validiamo la cessione per 9 milioni rovella lo tengo fagioli lo tengo raffia lo cedo in una trattativa e miretti lo do in prestito in serie a possibilmente per farlo ambientare un po diciamo il cursus onorum che ha fatto anche fagioli ma magari se qualcuno lo vuole anche direttamente in serie a poi vediamo le mezze punte a che lo diamo in prestito secondo me a che la cosa migliore chiesa lo tengo piazza lo cediamo per due milioni e mezzo tre milioni stesso dicasi per olivieri su le lo tengo correia lo diamo in prestito ok poi bernardeschi via zero vabbè in questo caso qui ci sta di bala lo teniamo lo terrei sapendo che rimane gasperini di bala lo potevi assolutamente anche rinnovare perché per me lo schema gli è congeniale usufruirebbe anche lui di una ritrovata lena quindi di bala l'avrei rinnovato sapendo che arrivava gasperini iattaren andiamo a ridefinire il prestito con l'ajax poi in una cosa che vedrete zanimacchia lo darei in prestito poi vlaovic lo tengo morata non lo riscatto che lo tengo caio giorgi lo darei in prestito possibilmente anche già come miretti una squadra di serie a magari fare una copiata caio giorgi e miretti alla cremonese in prestito così vrioni idem con patate anche lui in prestito quindi diciamo abbiamo ceduto un po di rimasugli un po di rimanenze di gente che non ha convinto che era a fine ciclo vari cespiti che sono anche suddivisi tra juve juve under 23 alcuni li abbiamo tenuti alcuni li abbiamo andati in prestito abbiamo un budget di 55 milioni derivante dalle cessioni vi dico gli acquisti che andrei a fare per la juve che avrei fatto per la juve di gasperini allora per quel che riguarda il portiere io confermo donnarumma me lo porterei a casa in un prestito con diritto visto che ha parlato anche galtier e ha detto io voglio dei ruoli ben definiti ok siccome per me keilor navas gode della stima di tanti giocatori del pari san germain ed è anche forte ci sta che tu per donnarumma possa avere potessi avere delle possibilità quindi me lo vado a prendere in prestito con diritto la cifra del riscatto decidetelo a voi ma in prestito con diritto poi dobbiamo fare difesa a 3 quindi ci servono due mancini da mettere e che andiamo a prendere andiamo a prendere intanto zagadu svincolato a zero come riserva zagadu che è svincolato e giovane ha esperienza europea lo andiamo a prendere come riserve come titolare mi vado a prendere dall'ajax ok lisandro martinez per 20 milioni di euro più bonus e più il cartellino di attaren che è in prestito all'ajax approfitti di questo acquisto anche per definire bene la situazione di attaren che è stato un po una roba che non si è capita i attarelli e lo lasci volentieri all'ajax fai pat fai plus valenziere ok tra i attrae nel lisandro martinez 20 milioni più bonus più il cartellino di attaren compact poi dall'atalanta perché vi dicevo della trattativa particolare per demiral perché avrei detto all'atalanta guarda vuoi riscattare demiral visto che c'è sto diritto mi va bene è un tuo diritto ok lo puoi fare però allora ridefiniamo la trattativa perché a te interessa demiral però io mi voglio prendere ocoli da te hai capito coli che è meglio di culibali che la juve vorrebbe ocoli è più forte di culibali avete capito quindi diamo demiral all'atalanta va benissimo ok però ci facciamo dare ocoli ok riceviamo 14 15 milioni il riscatto di demiral era 27 28 così e via dicendo gli si fa un importante sconto va bene loro al posto di dare alla juventus 25 28 milioni ne danno anche 13 va benissimo però il cartellino di ocoli che te lo porti a casa che è veramente forte ok poi vado dall'udinese gli do 17 milioni più il cartellino di dragusin che l'udinese può avere interesse a valorizzare ha bisogno di difensori perché deve rifare probabilmente quasi tutta la difesa 17 milioni più dragusin quindi pat con l'udinese per udo g ok dategliene anche 18 20 va bene ti porti a casa un giocatore fortissimo poi avrei fatto anche qui un'operazione allarme tra virgolette come quella del non riscatto di de ciglio ok legate oltretutto avete visto che masraoui a fine maggio è andato al bayern mi sarei mosso prima per farlo venire alla juventus ok gli avrei offerto magari più titolarità più spazio una squadra magari più adatta però avrei cercato di portare a zero muovendosi magari anche prima muovendosi prima masraoui alla juventus ok da svincolato magari ad aprile muovendoti un po prima dal bayern va bene poi il colpo facciamo un bel colpo importante qual è valverde da real madrid ebbene sì mi nella juve di gasperini mi piacerebbe molto vedere un valverde da real madrid che tipo di affare facciamo inseriamo artur melo nella trattativa artur che real madrid può anche avere interesse a mettere qualche giocatore dietro ai vecchi tra virgolette che c'è a centrocampo artur è un giocatore che in spagna ha già fatto bene può fare bene può fare la mezzala e anche diciamo può fare sia la mezzala che il centrale all'occorrenza ha molta tecnica ci può stare assolutamente quando era in brasile real madrid lo voleva quindi si può fare visto che con real madrid anche hai anche dei buoni rapporti fai un'operazione di questo tipo a real madrid dai artur melo ripeto e danilo che magari può offrire più garanzia reale rispetto a un odrio zola come alternativa no artur melo danilo e 40 45 milioni più bonus ok gli dai artur melo danilo 40 45 milioni bonus da decidere e ti pigli valverde ok così puoi anche fare del path con questi tre giocatori lo puoi fare tu lo può fare real ok 40 45 lì si decide in base ai bonus in base a parte fissa a parte variabile però gli dai artur ripeto che così lo vai anche eviti di minus valenziarlo danilo artur più 40 45 milioni e bonus aggiunti ok bene poi ultimo acquisto last but not least marco sturam marco sturam dal borussia moscheglalbach dal quale hai già preso zaccaria per 18 milioni più il cartellino di amza rafia ora fia che dir si voglia così fai anche pat ok è una vecchia pontatina marco sturam ve l'avevo fatta la juventus nel cattomarcato mi pare di due anni fa ok il padre è un ex quindi sarebbe anche un qualcosa di molto affascinante e in questo schema poi vedrete che avrà diverse utilità quindi ripeto i giocatori che abbiamo preso sono sostanzialmente donna ruma lisandro martinez zagadu ocoli udo g mazzrawi valverde e marco sturam vi leggo la rosa che resterebbe a disposizione sempre sulla base del 3421 allora portieri donna ruma per in pinsoglio difensori centrali deligt bonucci rugani ocoli lisandro martinez e zagadu ok terzini sinistri giudo g e pellegrini terzini destri quadrado e mazzrawi a centrocampo zaccaria mckenny fagioli rabbio rovella e valverde mezze punte chiesa sulle di bala e che lo metto mezza punta perché lui con gasperini per me a parte che può assieme a tanti altri vi ripeto valorizzarsi ma ce lo vedo bene anche come mezza punta anche perché in questo modo con chiesa sulle di bala e che abbiamo due sinistri e due destri oltretutto no anzi poi ci possiamo aggiungere anche turam all'occorrenza che è un destro però turam lo vado a mettere su carta nelle punte abbiamo vlaovic e turam turam può fare sia la mezza punta in questo schema che è perfetto per lui il 3421 lo schema perfetto per marcos turam che è un giocatore un po magari anarchico tatticamente però in questo schema di può fare sia la mezza punta dietro la punta che anche il vice vlaovic quando magari vlaovic non può o lo vuoi far riposare turam è anche uno che ha il fisico che ha la stazza che ha anche il senso del gol di uno che può sostituire all'occorrenza che può sostituire all'occorrenza vlaovic e intanto vedi cosa fanno caio giorge e vrioni in prestito magari nella squadra tua però intanto tu ti sei portato a casa dei giocatori interessanti allora vi vi rileggo anche la rosa diciamo per chiarezza che ci resta portieri donnarumma per impinsoglio difensori centrali deligt bonucci rugani ocoli risandro martinez zagadù terzini sinistri udo g pellegrini terzini destri quadrado mazraoui centrocampo zaccaria meccenni fagioli rabbioro vella valverde mezze punte chiesa sulle di bala chean punte centrali vlaovic turam con allenatore ripeto gasperini vi leggo anche una potenziale formazione titolare sebbene poi le inerzie siano così tante e variabili che puoi veramente sbizzarrirti con questi giocatori allora in porta donnarumma difesa a tre facciamo deligt bonucci lisandro martinez linea 4 quadrado valverde zaccaria udo g mezze punte chiesa di bala dietro vlaovic vi sembra scarsa vi sembra una rosa scarsa una formazione scarsa centrocampo puoi scegliere se farlo fisico come ho messo io in stile atalanta o anche un po più tecnico facendo per esempio fagioli valverde o fagioli zaccaria di bala e chiesa puoi farli giocare anche a piedi invertito uno a destra e uno a sinistra al contrario di questa formazione che vi ho fatto qui turam vi ripeto è ideale in un 3 4 2 1 perché può fare sia la mezza punta che che anche il vice vlaovic ok che è anuguale può fare la mezza punta in caso di emergenza ti può anche giocare come punta centrale chiesa chiesa gli puoi fare anche fare l'esterno a tutta fascia come giustamente aveva provato a fare pirlo ok gli puoi far fare l'esterno a tutta fascia a destra come faceva pirlo come fece iacchini all'inizio all'inizio della della sua avventura diciamo la juve e quelle 3 4 partite che giocò la fiorentina prima prima di di andare alla juve ripeto chiesa può fare anche l'esterno a tutta fascia appena un attimo si riprende magari dall'infortunio e prende confidenza immaginate voi avere come i due quarti avere chiesa e udo g è una coppia che ti giri indietro vedi il futuro veramente fortissima ok magari giochi con turam e mezza punta e chiesa esterno a tutta fascia ma anche così è molto bella perché c'è il quadrado che uno molto offensivo con chiesa a fianco per certi versi no o colli vi ripeto è meglio di culibali fagioli è un altro che può fare il trequartista senza problema in questo schema qua locatelli idem con patate a me non piace ma se volete se volevate confermarlo può giocare sia a centrocampo facendo diciamo il regista oppure se lo vedi lo puoi anche avanzare a fare il trequartista donna ruma sicuramente avrebbe la juve con voglia di rifarsi di dimostrare capito di non essere il cappellomane ma è uno secondo me che verrebbe con la voglia di fare difesa vuoi far giocare del league centrale va benissimo puoi far giocare del league centrale sulla destra fai giocare o colli direttamente se gli vuoi dare fiducia se te la senti oppure puoi far giocare ripeto o del league centrale con o colli a destra o del league centrale con bonucci braccetto se se gli gira il cazzo lo vuole fare in qualche partita altrimenti puoi giocare tranquillamente con bonucci capitano tra virgolette al centro e del league sul centro destra hai speso meno che per zaniolo per costruire una una rosa secondo me che è molto che è molto intercambiabile molto liquida hai una trequarti che è piena di gente che può spaccare le partite e decidi tu chi far entrare c'hai dei giovani meritevoli che ti tieni in casa e vai a valorizzare penso a fagioli penso a rovella penso a sulè penso a tutti quelli che hai preso similmente a come fanno tutte le grandi squadre che ci sono in giro per l'europa capito tipo il celsi il bayern barcelona non fanno mercato con gli svincolati i vecchi 30 sienni alla base devi avere una torta fatta anche così rabbiò con gasperini a centro campo ma vola è una rosa che costa meno di zaniolo è piena di cespiti è già competitiva oggi perché guardate le fasce guardate tre quarti il centro è competitiva dappertutto e lo sarà ancora di più più passa il tempo perché sono tutti giovani e più passa il tempo più gasperini avrebbe lavorato bene avrebbe mosso le inerzie avrebbe rivalorizzato quelli a disposizione inserito col suo gioco i nuovi ed era come il vino questa formazione qua cresceva e migliorava formazione anche europea perché è piena di gente che in europa ci ha giocato anche di quelli nuovi arrivati così avrei fatto la juve io queste scelte avrei fatto così avrei costruito una juve moderna sostenibile piena di giocatori che un domani ti possono valere tanto di più anche rispetto a quel che valgono oggi non serve che vedi gente tipo del igt vlavic con il broncio e via dicendo chiesa devo dirvi di più addios